SORTINO, intervento dei Vigiti del Fuoco sulla chiesa di San Francesco. A causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la provincia di Siracusa negli ultimi giorni, i Vigiti del Fuoco sono dovuti intervenire a SORTINO per la messa in sicurezza della facciata della chiesa di San Francesco. La squadra, con il supporto dell'autoscala, ha rimosso alcune tegole pericolanti. A SORTINO sono recati gli operatori del distaccamento di Augusta Terra, ringraziati dal sindaco di Vincenzo Parlato, che però tiene a puntualizzare una mancanza di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti della comunità che rappresenta. Nonostante io abbia a SORTINO un corpo di Vigiti del Fuoco con circa 40 volontari, dice allo stato attuale sono impossibilitate a esploitare il proprio servizio perché il camion a disposizione è spesso dislocato a Siracusa per carenza di mezzi a disposizione. Di fatto così abbiamo un distaccamento pieno di volontari che non possono intervenire. Ho già segnalato la questione in prefettura e la ribadirò al nuovo prefetto che si insederà a breve, ma non può funzionare così.